Una denuncia divulgata dal nostro giornale, attraverso un articolo in cui si mostrava senza filtri lo stato di degrado in cui versa la strada principale del rione dei Gasperi di Ponticelli, da quando le datate tubature del sistema fognario hanno smesso di funzionare correttamente, producendo un fiume di melma ed acqua maleodorante che si estende per diversi metri, con tutti i rischi che ciò comporta per la salute dei residenti in zona. Immediata la risposta del Comune di Napoli, che attraverso la persona del consigliere Francesco Vernetti aveva esternato pubblicamente la volontà di intervenire, per risolvere in maniera definitiva uno dei problemi più datati del rione, e che oggi, lunedì 9 aprile, dopo un primo intervento di espurgo del tratto fognario in tilt, avvenuto nei giorni precedenti, ha visto l'impresa preposta iniziare i lavori. Il ripristino della normalità dovrebbe avvenire tra qualche giorno, data la complessità dei lavori che, come ha sottolineato lo stesso consigliere Francesco Vernetti, dovrebbe rientrare nelle pratiche di manutenzione ordinaria prima che diventino interventi straordinari. La volontà di intervenire da parte del Comune di Napoli, si chiedono gli abitanti del rione, va interpretata come un segnale che lascia presagire che il procedimento di assegnazione dei restanti nuovi alloggi è ancora in alto mare, o si tratta di un atto dovuto, per restituire dignità ad un contesto dove i disagi sono davvero tanti e all'ordine del giorno?